Andiamo avanti, allora prima di lasciarci gli appuntamenti della serata sui canali Sky Allora su Sky Bricolage alle ore 19.30 edifici fai da te come approfittare della nuova legge sulla casa di Berlusconi e allargare il tuo tinello fino a farlo diventare un cappannone di 15.000 metri quadrati Su National Geographic alle ore 21 ai confini della preistoria in questo appuntato vorrei portare sul popolo della Salerno Reggio Calabria un'antica stirpe rimasta prigioniera in un maxingorgo nel Pleistocene non ancora liberata Su Hot Club che è l'appuntamento imperdibile, luci rosse alle ore 23 Hot Satcher, se la donna se lo sceglie sta sicura è di De Ceglie un appassionante film hard in cui De Ceglie dimostra perché a Torino è simpaticamente soprannominato La Calamita La Calamita della passera Grazie a tutti ci vediamo tra 7 giorni alle 18.30 Grazie a tutti